Merry Christmas! Non è più Natale, ma ci sono le patch nozze, quindi noi adesso le affrontiamo. Cuffie e spalla e si vola. Patch 11.22, eh sì, 11.22, Paolo Cannone! 11.2, si comincia, si comincia, guardate quanta roba. Veloci, veloci, esce Viego, re rovina. Facciamo un video a riguardo, quando arriveremo in come giocare male, tac, alla lettera V. Fino a quel momento, no. Akali, chi l'avrebbe mai detto? Nerf è subito sulla Q a inizio season, perché forse Akali era un po' troppo sbroccata. Le aumentano di nuovo il costo dell'energia della Q. Guarda un po', dopo che gliel'avevano diminuito sei mesi fa, adesso Akali torna ad avere la Q col costo aumentato. Yes, 100 di energia a livello 5 e non più 80. Ottimo. Azir, ricarica della Q ridotta. Ok. Antazir, o lo sai usare o non lo sai usare. Adesso quelli che lo sanno usare lo sapranno usare meglio. Va bene. C'è nel senso. Ottimo. Caitlin, attacco fisico aumentata la crescita. Caitlin, non so se vi ricordate tempo fa, gli aumentavano di due l'attacco fisico, gli toglievano due, gli aumentavano di nuovo di due. Hanno ricominciato a fare la stessa cosa, a quanto pare. Darius. Darius, questa io non l'ho capita bene, ho dato uno sguardo, stiamo riguardando insieme. Attacco fisico bonus, forza di Noxus, che è la passiva, da 20 a 205. Quindi gliel'hanno diminuito quello che ottiene per stack. Va bene. Ok. C'è nel senso. Ottimo. Nerfino su Darius. Vabbè. Vabbè. Mundo. Allora, Mundo io non so neanche se affrontarlo. Lo vogliono rivolcare. Lo buffano a bestia. C'è, la Q rimborsa più salute, sia che solo colpisca, sia che uccida. La E fa più danni in percentuale, in salute massima. Il sadismo, c'è l'ulti, ti cura ancora di più. Va bene, ma perché rompere Mundo? Tanto lo volete rivolcare. Smettetela, smettetela. Elise, più danni sulla Q. Ok. E invece no, nerf sulla Q. Uno dice, già Elise la usavano in pochi. Era forte come champ, però nerfarlo, c'è, va bene, va bene. Danni meno sulla Q, più avanti quei livelli. Va bene. Fino ad avere 20 danni meno. Ok. Ivern, Ivern, che demolisce le vostre partite. A quanto pare sì, perché li nerfano lo scudo. Dal 90% di scaling, col potere magico all'80%. Ok. Le Blanc, più salute. Ci sta. E il costo della Q diminuito. Ci sta. Già chi sapeva usare bene le Blanc, stompava le partite adesso. Oddio, no. Maokai. Maokai. Allora. In live stiamo portando ogni tanto la botlane degli alberelli. Maokai e Ivern. Uno dice, hanno nerfato Ivern. Ok. Ma nerfano anche Maokai. Ci hanno visti. Non vogliono più farcelo fare. I saprolingi, la E. Il lancio verde costa più mana e fa meno danni. Va bene. Nocturne. Nocturne era troppo debole. Cosa? Sì. Nocturne era troppo debole. La Q adesso ha due secondi meno di ricarica. E la paranoia... Dieci. Dieci e... Dieci secondi meno di ricarica. Ok. Va bene. Ok Riot. Nunu. Satia. Nunu. Va un po' più piano. Yes. Ha un po' meno salute. Yes. Va a far brodo Nunu. Nunu veramente troppo forte su chi lo sa usare. Atrox. Qui va spiegato bene. Va letto bene. Allora. L'autoguarigione di scatto dell'ombra. Cioè della E. Ora aumenta al tot durante la R. Quindi mentre sei in R aumenta la guarigione quando fai lo scatto dell'ombra. Perfetto. R. L'autoguarigione viene diminuita. Perfetto. Quindi ti guarisci di meno in generale. Ma se usi la E ti guarisci di più. Quindi è un bilanciamento tra R e E. Perfetto. Olaf. Allora anche qua. La W ha più rubavita sul colpo. Ma ha meno amplificazione della cura. In base alla salute mancante. Ok. Ok. Senna. Porca miseria. Riot. Riot. Perché? Perché? Riot. Senna. Velocità d'attacco un pochino aumentata. Passiva. Che perché era così bello adesso. Senna era scomparsa praticamente. Niente. Facciamola tornare fuori super pompata. Più possibilità che escano le anime. E adesso quando prendi un cosino. Una stack. Non ti dà tre di oro. Te ne dà otto. Praticamente una stack non ti dà. L'oro di una stack. Ma ti dà l'oro di tre stack. Praticamente. Perché? Ma... Maledetti. Non si fa. E ora. La Q. Cura di più col potere magico. Va bene. Chi la builda potere magico? Praticamente nessun ora cambierà questa cosa chiaramente. Il rapporto danni è aumentato anche con l'attacco fisico. E quando colpisce un campione nemico con la Q ora. Se ne aggiunge una carica di uccisione di Kraken. Ok. Va bene. Shaco. Ma Shaco è un po' debole. E ci sta. Noi aumentiamo i danni della passiva. Del colpo alle spalle. Va bene. Ok. Ci sta. Soraka. Soraka. Aumentata la cura sulla Q. A livelli finali. E la W. Come dire. Allora. Curi di più. Di pochissimo. E... E anche di più col potere magico. Cioè curi di più di pochissimo di base. E anche col potere magico. Dove vogliamo portarla questa Soraka? Dove vogliamo portarla questa Soraka? Vogliamo rivederla in top lane? Non lo so. Trandol. Allora. Fa più danni di Q. In percentuale. Con l'attacco fisico. E il regno di ghiaccioli dà ancora più velocità di movimento. Di attacco. Tutti questi buff. Tipo. Varus. Più mana. Per livello. E la catena di corruzione. Ora ha meno secondi di ricarica a livello 1 e 2. Quanti buff sto vedendo. Quanti buff. Perché? Zoe. Allora. Qui la devo leggere. I frammenti di cattesimo e reperibili dai minion ora includono. Orgoglio di rando. I medaglioni e il sole di ferro. Cento e un turgo. Canto. Ok. Tutti gli oggetti attivi. Ok. Ok. I frammenti di cattesimo e reperibili dai minion non includono più redenzione. Ah. Non può più ottenere redenzione Zoe. Ok. Ok. Perfetto. Non può più ottenere la redenzione. Perfetto. Oggetti. Questo non l'ho capito. Ripristino l'ama della mana di l'ama incantata di predatore d'essenza. Non più 3% del mana massimo. Ma 40% del mana proveniente dai danni inflitti dalla lama incantata. Eh. Prima della riduzione dei danni. 40% del mana proveniente dai danni inflitti dalla lama incantata. Ah. Perché. Andiamo a vedere l'ama. Scusate. Andiamo a vedere. Aspetta. Scusate. Oggetti. Perdonate. Ma non riesco a capire il senso di questa affermazione. Fammi vedere. Fammela vedere qua. Lama incantata. Dopo aver usato un'abilità il tuo prossimo attacco infligge. 100 più. Ah. Ok. Più attacco fisico base. Più 40% dell'attacco fisico bonus. Ok. Quindi recuperi i mana in base solo dopo aver tirato una spell. Va bene. Ci sta. Ci sta. Andiamo giù. Andiamo giù. Le patch le voglio fare molto più strette e molto più veloci così siano anche un po' più golose da guardare. Tempesta impetuosa. La Galeforce. Ehi ma togliamoli i 30 secondi di ricarica dalla dall'attiva. No rimettiamoli subito. Instante. Ora la buildano tutti. Ma metteli nei 15. Portarla a 75 piuttosto che riportarla a 90 e tornare come era prima. Chi lo sa. Cintura a razzo di headstack. Nerfino. Ormai la cintura a razzo di headstack la sta non nerfando ogni patch. Va bene. Meno velocità di movimento. Ok. Mandato imperiale. Allora. Questo è. È un. Cioè è un nerf arf. Adesso la ricarica. Di fuoco coordinato. Si applica all'applicazione iniziale di rallentamento e mobilizzazione. Quindi. Cioè. Non capisco. Cioè nel senso. Cioè. Boh. Non vogliono più vederla nelle solo lane. Ok. Però. Quindi. Cioè tu puoi. Andare ad attivarlo solo. Cioè lì. Cioè praticamente. Nel momento in cui l'avversario viene rallentato. Il tuo alleato deve subito colpire. Non ho capito. Devo vederlo in game per capirlo bene. Poi. L'uccisorio di Kraken sta staccando con troppe cose. Quindi fanculo Aphelios. Fanculo Katarina. Fanculo Urgot. Semplice. Efficace. Non buildatelo più su questi tre gem. Non serve più niente. Canto riguarda di Shurelia. Dà meno salute. Non dà più 5% di rivoluzione di movimento bonus. Dà 40 di potere magico. Che prima non lo dava. Dà rigenerazione di mana di base aumentata. E soprattutto si builda in un altro modo. Ok. La stra pietra del gargoyle. Prima tipo. Allora. Funziona. Non funziona. Non lo so. 3% in più. Poi ma. No. Troppo poco. Ora la stra pietra del gargoyle. Dà il 5% che aumenta del 5% per ogni avversario in più in tono. Questo doveva essere fin dall'inizio. Questo finalmente è diventato. Il 3% non era abbastanza. Non ti rendeva tank. Il 5% ti aiuta. Letalità. La letalità ormai è quell'angolino in cui i sogni muoiono. Perché sta venendo nerfata ogni pace. Ombra tagliente. Costa di meno. Dà meno attacco fisico. Fine. Zara dei serpente. Costa di meno. Dà meno attacco fisico. Fine. Spara catena chemtac. Che non è per la letalità. Cioè non dà letalità da quello che mi ricordo. Quindi ok. Perché è finita nella sezione letalità. Va bene. Costa di meno. Dà meno salute. Fine. Nerf diretti proprio. Oggetti per i tiratori. Danzatore fantasma. Più velocità d'attacco. Oh grazie. Gli oggetti da critico fanno un po' schifo. Perché togli l'uragano di runa che era diventato un oggetto must. E quindi ora fa tutto un po' più schifo. Quindi devi ridoppare le cose. Più velocità d'attacco sul danzatore fantasma. Più velocità d'attacco sull'uragano di runa. Grazie. E si buildano anche in modo diverso. Va benissimo. Fervore d'aga d'aga. Fervore d'aga d'aga. Non fare i miei compiti uguali. E invece sì. Oggetti da tank. Questi proprio non li ho letti perché volevo tenere una reaction sincera durante il video. E gira del sole. Passiva mitica. Passa da 5 di velocità abilità per ogni altro oggetto a 5 di tenacia e resistenza ai rallentamenti. Oh. 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 Che peccato. Che strano. L'hanno nerfata. Il guanto di ghiaccio ardente costa 400 di ore in meno. What? In che senso? Da più velocità abilità e da molta meno armatura. Ma? Perché è un oggetto mitico. E chi ne abusava? Oddio. Mi sono perso qualcosa. Cioè. Super nerf al guanto del ghiaccio ardente costa molto meno. Ma chi è che ne abusava? Non ne ho idea. Non ne ho idea. Champ Tank Turbo. Anche questo 400 di ore in meno. Ma che succede? Ma perché Riot? Cosa fai? La metà di resistenza magica. Più velocità abilità. E la passiva mitica. 5 di velocità abilità per ogni oggetto. Ah. Gli hanno invertiti. Alla Champ Tank hanno detto 5 velocità di abilità. E all'eggita del sole invece la tenacia. Ma... E queste sono robe. Esce Viego appunto. Driver in rovina. Un sacco di robe in rovina. Questo non si sa cosa sia. Le robe di TFT. Super goloso. Vabbè. Viego bel valunare. Ecco. Io non capisco. Sono molto confuso. Devo essere sincero. Quello che ha voluto fare la Riot in questa patch. Però. Piccolo recapino. Velocissimo. 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 E non posso aprire l'immagine. Ve la dico così. Fidatevi di me. Ah. No no. Fermo. Scusate. A me ha aperto 18 cose. Scusate. Allora. Recapino. Proprio. Velocissimissimissimo. E... Akali Nerf. Darius Nerf. Elisa Nerf. Iver Nerf. Maokai Nerf. Nunu Nerf. Olaf Nerf. Va bene. Cioè ora il bilanciamento. Non lo chiamerei Nerf. Va bene. Ci sta. Poi. Da provare. Quindi. Da non utilizzare più. Tra virgolette. E... Tra tutti questi direi Iver. No. Cioè direi che vanno comunque bene. Sono molto più difficili da usare adesso. Molto. Un pochino più difficili da usare. Semplice ed efficace. Invece. Da provare. Da provare. Il mondo come ora. Perché secondo me l'ha rotto come a non rotto granare la patch scorsa. Le Blanc molto più forti. Nocturne incredibilmente più forti. Senna è rotta. Ragazzi. Ricominciate ad usare la DC. È fortissima adesso. Sicuro. 100 su 100. E secondo me Soraka può tornare in solo lane. Provate anche entrando lì in giungla. E Varus. No. Varus. Varus. Solo se vi diverte. A me diverte come sempre però. Ha un suo playstyle. Quindi. Provate Senna. Secondo me è di nuovo rotta. Oggetti. Boh. Cioè. Hanno ammazzato gli oggetti. L'unico oggetto che è migliorato è appunto il predatore d'essenza. Probabilmente. Che quindi in combo con Senna. Non so cosa possa diventare. Adesso quel chance. Secondo me adesso dominerà di nuovo. Tornerà a dominare. Fanculo i tank. Fanculo quelli con letalità. E finalmente i critici. Tornano davvero. Cioè. riguardano un po' di senso. Ma non più di tanto. Tutto questo. Ho sperato di fare un video nel meno di 15 minuti. Ce l'ho fatta. Anzi. Arriviamo a toni e toni a 15. Che su YouTube poi verranno modificati. Io vi ringrazio. Vi saluto. Io vi. Mi congratulo con voi. Ci vediamo live. Dalle 2 alle 6 e mezza. E dalle 9 e mezza. A mezzanotte. Grazie a tutti per essere passati. Spero che l'ambiente di Natale vi sia piaciuto. Se non vi piace. Mi fate piangere. Ma va bene lo stesso. E ragazzi. Io vi saluto. Bella lì. Bella là. E come sempre. Bye bye bye. Ci vediamo al video delle patch notes di TFT. O se siete arrivati da lì. Grazie per avervi visti tutti e due. Bella.